Poiché nessuno in realtà sa com'erano i dinosauri, è possibile che un incontro tra un Tyrannosaurus e un Triceratops sia stato così. Uè, Triceratops! Oh no, proprio il T-Rex mi doveva capitare, che pizzo! Bella, Triceratops! Oh, picocelo il naso. Passavo da queste parti, posso farti in compagnia? Ma lasciami in pace, rompibanne! Sei veramente odioso, non ne passo più di te! Sei tonto come il Brachiosaurus che parla da un'alto! Sei spiritoso, facciamo proprio l'alto come ai vecchi tempi, eh? Fatti sotto avanti! Eh, lascia in pace la mia schiena, non farti venire a strada in te! Se sei venuto per infastidirmi hai scelto un brutto momento, tra un po' c'è il T-G-Sauro! Oh, dai, lo sai che ho bisogno di qualcuno in mia presenza? Stammi un po' vicino! No, 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 vai a dare fastidio a piedino, brutto bambeo! Se io sono un babbeo, ti avrei mai fatto il sonnetico del genere come questo? Ah, ah! Sì, ogni volta che ci vediamo dici sempre e alla fine che verbaloso!! Oh ho ho ha 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 ha! Che verbaloso! Grazie a tutti